si ritorna in Champions, avevo già girato il video ed era arrivato nel semifinale, poi eliminato dal Real Madrid ora cerco di arrivare magari fino in finale, ma vedremo cosa riuscire a fare, iniziamo a passare il gironi e vincere qui e si riparte, credo ragazzi, l'obiettivo è la finale, ma è tutto ancora molto presto eccolo qua, chi sono lui, dal limite all'aria, poi poi va, me lo sono preparato questo tiro e poi l'ho lasciato partire e al primo tiro in porta, vero, perché andiamo in vantaggio, non era successo niente di che fino adesso bene così, gran gol di Polpavà che nei tiri è comunque micidiale, nonostante abbia solo 79 di statistica andiamo a rivederli insieme gran gol 1-0 per me ancora Paul vicino alla doppietta, sempre lui ragazzi ed è il gran gol, splendido 2-0 Marco Rashford si rifà subito, l'ho proprio sbagliato bene così anche perché è una vittoria del passaggio prova addirittura la coppia ballone che finisce l'art prima gara del girone che è fatto qui 2-0, secondo tempo praticamente nulla senza occasioni da una parte all'altra vittoria non meritatissima, l'hanno giocato benissimo ma adesso affronteremo credo la Valencia all'ultrafford ci vediamo nella prossima partita, lasciate like e iscriviti al canale